Stanno riscuotendo grande attenzione gli incontri promossi dalle imprese della comunicazione per favorire lo scambio di conoscenze e l'aggiornamento sugli strumenti che aiutano a promuovere un marchio, un prodotto, un servizio. Appuntamenti aperti, lo ricordiamo, anche alle imprese che cercano di capire e orientarsi in tal senso e il cui calendario è pubblicato su www.focusest.it. Siamo andati con la nostra telecamera al workshop tenuto dalla consulente e formatrice Futura Pagano sul marketing digitale. Mettere in atto un progetto di digital marketing significa curare nei minimi dettagli la presenza strategica dei marchi e dei progetti di servizio e prodotto sul digitale con degli obiettivi che sono l'ingaggio, il coinvolgimento delle persone. Sono gli obiettivi specifici dell'impresa legati al business, ci ha detto Futura Pagano, che devono guidarci nella scelta degli strumenti, sito, blog, social, marketplace, attivabili tramite la rete. E poiché dobbiamo sapere a chi parliamo, l'individuazione del target di riferimento è un altro presupposto essenziale. Lo studio dei mercati e lo studio dello scenario del digitale parte da una consapevolezza del target delle comunità, sia per quanto riguarda l'individuo, sia per quanto riguarda i gruppi, grandi gruppi, comunità complesse ma anche nicchie. Connettere persone creando valore. Questo è lo scopo del marketing digitale che offre la straordinaria possibilità di andare oltre l'informazione sull'esistenza di un brand, di un prodotto, di un servizio e di creare una relazione con scambio di indicazioni, richieste, giudizi che sono funzionali non solo alla vendita ma anche alla verifica delle aspettative del mercato, orientative per aggiornare l'offerta. Una delle cose importantissime del lavoro di un digital strategist è proprio quella della misurazione rispetto a come l'utente, la persona, non soltanto interagisce col contenuto ma anche ciò che questo genera, quali tipi di azioni, commenti, reazioni genera questa interazione col contenuto. Quindi il nostro lavoro è un lavoro di monitoring continuo, di ascolto e di misurazione del comportamento dell'utente su tutte le piattaforme. Un contesto trasparente, questo è ciò che cerca e attira l'utente su piattaforme aperte a tutti e chi fa comunicazione aziendale ne deve essere consapevole affinché la relazione diventi un valore. La consapevolezza dei pro, dei contro, quindi la trasparenza nell'essere brand, nell'essere servizio è fondamentale ovviamente perché l'interazione col proprio consumatore è molto più orizzontale, continua. Uno si espone al giudizio del consumatore. Più che giudizio direi al feedback, ok? Ha un, e questo quindi il tema della positività, al feedback riguardo a cosa quello che l'utente, il consumatore pensa del tuo prodotto servizio, ok? Qual è la sua esperienza col prodotto servizio, cosa trova di buono o di sbagliato, se il tuo servizio di customer care è efficace nel risolvere i suoi problemi con l'esperienza, col prodotto, col servizio o meno. Quindi io la vedrei sempre come una grande opportunità, quella di poter in qualche modo sempre migliorare in real time quello che stiamo facendo. Un'efficace presenza su internet, capace quindi di attrarre, richiede un aggiornamento continuo. La regola base, a mio avviso, è quella di raccontarsi in continuazione, ok? Quindi una presenza costante, una presenza in continuo mutamento, se vogliamo, in continuo ascolto e non una presenza statica, ok? I brand o comunque i marchi sono delle persone sui social, effettivamente tutto nasce da un profilo, ok? E l'interazione, la comunicazione è alla base, dobbiamo imparare a comunicare come persone e non soltanto come marchi.